Vengono in una società che gli offre subito più supporti, più mezzi, più informazioni rispetto a noi che siamo nati quando la televisione ancora non esisteva. E quindi chi è rivolto a dare il proprio contributo, a dare quel valore al lavoro che è chiamato a svolgere con passione, giustamente lo offre e si vede e si nota. Infatti io spesso sono docente presso l'Università, la Sapienza, l'Università Europea di Roma e mi rendo conto che abbiamo dei giovani meravigliosi e un patrimonio completamente disperso e inutilizzato. E' questo che veramente mi fa piangere il cuore. Però bisogna aggiungere anche un'altra cosa, che spesso c'è un grosso scollamento tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola. I nostri giovani spesso non hanno le competenze, non sono preparati per diventare imprenditori di se stessi. Vivono in un mondo in cui spesso gli viene coltata la cultura che praticamente tutto gli deve essere spesso offerto dall'esterno. In molti contesti, poi chiaramente ci sono anche le eccezioni. Quindi secondo me alcuni concetti che riguardano il mondo aziendale, se già vengono inseriti nell'ambito delle scuole medie e medie superiori, potrebbero formare dei giovani in grado di poi interloquire con le aziende in modo efficace e di porsi in modo da essere appetibili non soltanto sul mercato italiano ma anche sul mercato estero. Anche all'estero, che poi inevitabilmente sarà il futuro. Non a caso io ho mia figlia all'estero, che lavoro fa la ricercatrice. Ovviamente sì, ovviamente sì. Avrete capito, amici in ascolto, che questi sono temi fondamentali del nostro vivere perché parliamo del nostro futuro, i giovani, e parliamo delle risorse che gli stessi al Paese possono apportare. Ovviamente gli dobbiamo dare i mezzi per farlo, ma è altresì importante che i giovani si rendano conto che quando si inizia un lavoro è il lavoro più importante della vita, cioè il primo lavoro che si inizia è il lavoro più importante della vita perché lo si dovrebbe scegliere per passione, ma dati i tempi molte volte lo si fa per necessità. Ecco, io credo che se noi uscissimo con i nostri giovani da quella forma mentis che lo stai facendo per necessità e quindi lo devi far male, noi saremmo già molto avanti, nel senso che lo facciamo per necessità. Sì, ma facciamolo bene, qualunque lavoro esso sia, facciamolo bene perché questo ci dà proprio la cultura del lavoro da cui siamo partiti con il libro della signora Maria Grazia De Angelis, che è un concetto universale, la cultura del lavoro come leva strategica per il successo di impresa. Considerate, considerate giovani, voi l'impresa più importante della vostra esistenza, quindi se riusciste a entrare nel merito di questa idea che è portante, qualunque lavoro voi stiate facendo, fatelo bene. Questo è il successo degli Stati Uniti d'America, dei giovani americani, qualunque cosa essi facciano, ancorché frequentanti la Syracuse University o quello che volete, vanno a fare i camerieri, cercano di farlo al meglio delle loro possibilità. Questo è un concetto fondante del vivere americano, quindi avremo modo anche di riparlarne. Condivido perfettamente quello che sta dicendo perché io dico a giovani investite sempre in esperienze, perché da ogni esperienza portate via sempre un grosso bagaglio. Infatti, allora Maria Grazia De Angelis è la signora che amorevolmente questa mattina ci ha spiegato quella che è la cultura del lavoro, ma soprattutto professionalmente lo ha fatto. Il suo libro si chiama Benessere personale e benessere organizzativo. Un binomio possibile? La risposta con la buona volontà è sì ed è scontata. Grazie signora della sua presenza qui da noi.